Diciamo che il Milan è un po' più vicino a Kakà. No, diciamo un'altra cosa. Diciamo che il Milan e il Real Madrid hanno firmato il contratto per il passaggio di Kakà. E adesso c'è la parte di trovare un accordo con Kakà, ma comunque le due società sono d'accordo. Quanto manca tra voi e Kakà? Ci vediamo, vediamo, vediamo. L'ha sentito Kakà? Beh, no, ci siamo incontrati tutto il pomeriggio con il papà, con i suoi avvocati, eccetera. Quindi, insomma, diciamo, ci sono due cose quando c'è un trasferimento. L'accordo fra il club e l'accordo con il giocatore. L'accordo fra il club c'è, l'abbiamo firmato, sta in questa cartellina qui. E adesso vediamo. Perdone, in castellano Kakà è il giocatore del Milan? No, assolutamente no. In italiano rispondono in castellano. Perché per essere un giocatore del Milan deve firmare un contratto con il Milan, che per il momento non ha firmato. E adesso vediamo se troviamo una soluzione. L'accordo tra voi e il Madrid si sta fatto, no? Sì, sta segnato, sì. Però è la massa importante, no? L'accordo tra il Real Madrid e il Madrid. Ecco, insomma, questo è fatto. Adesso vediamo se troviamo un accordo con Kakà. Si emoziona di riportare Kakà a Milano? No, no, mi emozionerò quando, se del caso, quando avrà firmato per adesso. Sarà un aggiornamento domani o stasera, dottor? Non lo so, vediamo, vediamo. Grazie. Vale, grazie. Grazie a tutti.